Cos'è quadrato, pieno di sorprese e riserva un sacco di qualità, non è Alex? Non è Lion quando si siede! No, non è Lion quando si siede, si è veramente cattiva. Si tratta dei Lucky Block, finalmente! Oh, finalmente bellissimi! Torniamo, eh? Siete contenti che tornano le sfide per Lucky Block? Siamo felicissimi! All right, allora, iniziamo subito. I Lucky Block sono quelli del Mr. Meat. Infatti vedete che qui c'è il suo cugino, Mr. Bone. Oddio, come si chiama questo? Bellissimo! Poi il suo fratello, Mr. Meat, che è pure molto potente. E poi, lì nell'angolo abbiamo altri mercanti, macellai, amici suoi. Ho tutti i fratelli e sorelle, quelle là! Un batto di gente! Ognuno di noi ha il suo Lucky Block gigante. Ovviamente vincerà chi alla fine avrà meno morti. E alla fine ci sarà il duello, uno contro uno. Dove morire dentro del discorso! Sono già pronti! Oh, boh, boh, se siamo pronti! Categoria! Tento la fortuna dalla mia! Pesi pesanti, pesi sporchi, pesi boh e pesi bikini. E io che sono! Ti sei salvato in calcio d'angolo! Ok, vai, ognuno sul suo blocco. Vi do il via e iniziamo ad aprire. Dentro ci sono un sacco di cose speciali, anche customizzate. Armi di Mr. Meat, armature di Mr. Meat, blocchi, carne. No, prima di iniziare ti prego, benedicimi Lion, ti ricordi che sono il prossimo più sfortunato al mondo. Benedici tutti quanti, ti prego. Allora, nel nome delle patatine Lioni che si preme. Oh, è saltissimo! Piene di sorprese e queste altre, piene di tatuaggi bellissimi. Andateli a comprare nei negozi di Snacks. Adesso vi benedico e avrete un sacco di fortuna. Siete pronti a iniziare ad aprire i blocchi Lioni? Non, quantissimi! Ok, allora meno tre, meno due, meno uno. Via, iniziamo con più. Partiamo! Ecco già, partiamo bene. Vi ricordo che non c'è fretta. Dovete aprire i blocchi uno ad uno per cercare di raccogliere più tesori possibili. Vedi? Te l'ho detto io, bro. Ma non ci credo. Ma io te l'ho detto. Ma è già morto, com'è possibile? Ma se non basta neanche la benedizione delle patatine Lioni che non funziona niente. Ma di nuovo? Ma non mori, ma tu devi andare lento, devi andare lento, devi gustarti le cose. Ma io le ho aperti due. Un blocco alla volta, vedi? Bisogna avere pazienza. Io sto trovando un sacco di cose. Guarda, 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 altri blocchi. Oddio, avevi ragione, Lioni, lo sto trovato, te lo puoi immaginarti. Sì, sì, la pazienza è la virtù del Mr.M. Lioni, no, muori di brutto. Non morirò mai io, io non morirò mai. Non ho intenzione di lasciare a voi neanche un punto qua dentro. È solo Chico che ha raccattato morti. Ok. Sì, ti ho portato uno scambio. Aspetta, un attimo, sei con me? Sto bruciando a morte un attimino, però aspetta che c'ho anche il lattino. Ok, adesso ci sei però, vero? Sì, questo è il latte di cammello di Mr. Meat, molto buono. Ma che schifo! Offere incredibile. Ho dato qualcosa? Io ti regalo una cosa di Mr. Meat fighissima e tu mi tieni qui. Io ancora non ho avuto fortuna di trovare. Io ho trovato delle ragnatele, delle cagatine così, però non ho trovato cosa buona. Allora, tu non hai idea. Io adesso vengo da te, ma tu non hai idea della fortuna. Anche io non ho una cosa importante. Cioè, io non ho tantissimo da scambiare, quindi... No, 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 io resto qui per sempre. Fammi vedere, dai, fammi vedere che cosa è importante. Bella, una botto sega. Mi interessa, mi interessa. Questa te la posso scambiare appena troverò qualcosa di buono, guarda. No, ma io voglio restare qui, ti ho detto. Ah, no, allora, guarda, senza dubbio, puoi rimanere nel mio blocco, saremo team. Oh, sì! Come team? Oh, ma non vale! È arrivato prima. Puoi fare team con Alex se vuoi. No, assolutamente resto qui. So che spesso ha pruriti personali, cioè... Non si lava. Non ce l'ho mai pruriti, cosa fai dicendo? Non mi sto aggattando in questo momento. Anna, se tu hai bisogno di scambiare, io, guarda, dammi due secondi che apro qualche lati blocco. Allora, io non ho bisogno. Io sono qui per farti dei doni super. No, vabbè, ma io non voglio regalare... Basta regali, io scambio, perché sono leale. Alla fine è una sfida, quindi giustamente se io devo accettare qualcosa, io voglio dare qualcos'altro in cambio. Per esempio questo bellissimo... Aspetta che un attimo che mi chiamano, che io avevo trovato anche una cosa per scambiare. Era appena arrivato! Avevo un arco di carne, niente male, eh. Quello poteva essere buono. Che cosa è successo, my friend? Mr. Me too? Regola, io vieni a vedere chi c'è! Ah, però quanta esperienza che hai scagazzato. Guarda, non è fortunato, questo qua mi uccide di brutto! Allora, se hai qualcosa da offrirmi, io te lo ammazzo, però solo se hai qualcosa da offrirmi, la tua isola è maledetta. Alex, la tua isola è astro maledetta, ma che cacchio! Possiamo mettiti delle dosi morto! Eh, sono morto, sì! Alex, ti ha fatto guabalissimo! Non ci rendo più! La tua isola è maledetta, attaccati! Ma come no, io ci muoio qua da solo! Attaccati! Sono io! Allora... Sono io che ho beneficiato al massimo della tua benedizione perché ho aperto il primo lac... Io ti do... Cosa c'è? Un arco di carne di Mr. Meat con le frecce. Chico, per favore, per favore! No, io ti ho aperto uno! Sto scambiando! Non mi fai dire neanche cosa è successo a me con la tua benedizione! Sì, vediamo un po' che cosa ti è successo e cosa porti! Ho trovato due pozzi che mi hanno fatto piovere diamanti, smeraldi! Ah, che fortuna! Ti dono questi nove blocchi perché proprio io li piango i diamanti! Poi mi sono usciti due templi pieni di diamanti e... Ok! Queste qua! Oh, delle palle! Ah! Sì! Polpette di Mr. Meat, buone! Sì! Che vuole! Grazie! Le palle gestionali di Mr. Meat! Grazie, grazie! Allora, spero del mio arco di... Perché sei un... Oh, no, mi era una palla di Mr. Meat! Eh no, sei un gatto! Cioè, guardati perché non è normale! Non ti ricorda usi! Ma che è questo? No! Significa che è un gatto! No, 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 ti giuro non me l'ho messo da io! Se ti piace così tanto ti faccio accoppiare col strecatto, eh! Se ti piace... Ma che schifo! No, lo so, io chiedo, eh! Oh, fatto casino! Mmm... No, che schifo! No, te ne apro uno io! Eh, no, lo so attento! No, porca miseria! Ma cos'è successo? Sì, ma Mr. Meat è un infame, eh! Ma qui dentro! Ma non è mai morto! Cioè, ma guarda qui! Ma io ci sto negando! Ma io non so qui che sono tranquilla, insomma! Eh, io non tanto! E ci annego pure qua dentro! No, no, ti aiuto! Ti salvo io! E poi gli do quello che ho trovato, invece! Ma tutto voi trovati! Non trovo niente! Ma attento! Eh, dammi un po'! Che cosa ho trovato? Ho trovato dei TNT di Mr. Meat! Che possiamo fare esplodereci con queste! Ah, dai, un po' sotto! E poi una cosa fortissima! Ah, vabbè! E che so, sempre le stesse TNT di prima? No! Questa va a noglia! L'aglio è potentissimo! Oddio, avevo la spatola! Ah, eh! Questa è per girare gli hamburger! La spatola di Mr. Meat! Usavamo! No, non so, una burger! E' buona, è buona! È buona! È buona! Bravo, buonissimo! Allora, in cambio, vi posso dare questa spada di insalata verde? È bellissima, grazie! Uffi, chissima! Non fa ingrassare, riempie il tanto giusto! Da te, mille, vado a continuare! Buona botta una catena! Allora, io so anche che dovrebbero uscire dai lucky blocchi di Mr. Meat tanta carne, perché giustamente lui ama la carne, Mr. Meat, però... E la carne è uscita? Io, uomo! Te ne apro io, sei pronto! È super fortunato questo! Ma a te, Alex, è uscita della carne? Perché a me no... Ma ancora no, sinceramente! Però a me è uscita della carne secca, che schifo! Eh no, io voglio proprio la carne, quella di Mr. Meat! Eh, neanche a me è uscita la cicciaccia! Eh, ma... Come mai? Continuiamo a scavare! Sicuramente ne uscirà! Eh, eh... A me non pare, perché abbiamo aperto un bel po' di blocchi! Io, l'ho trovata io, l'ho trovata io, Lion! Però non vedi, Mr. Meat, è la tua carne! Eh, quella, quella, ma scusa, dov'è? L'ho presa dai lacrimi con apertità, ti vieni, sono io qui! Aspetta un attimo che ci sono dei brutti uomini qui in giro, dovetti... Eccoti! Oh, posso gustarle un paio? No, è roba mia! Va vedere! Eh, ma è gustosa! Oddio, dietro di te! Aspetta che ci sono altri vermi della carne, questi sono infami! Ma che schifo, come vermi della carne! Dove ti ha tirato quello? Io e te stiamo morendo un po' più volte di quante pensavo, Chico! Stiamo facendo un pochino schifo, eh! Ma gli altri, infatti, stanno barando, secondo me! È possibile! Ah, io ho la vaga impressione che tu abbia scelto il peggior compagno di squadra che potessi scegliere! Io ricordavo che lui portava sfiga, effettivamente! Sì! Però... Dovevi scegliere me? Ho cercato di ignorare la cosa, perché nei commenti poi ogni volta mi dicono, Lion, fai squadra con Chico, tu e Chico! È vero! La fortuna suprema è la sfortuna suprema! Però tu devi ricordare che il tempo, certe cose... Ma che schifo, guarda, cosa stai facendo! Tutti i ragni della carne! Che schifo! Che schifo! Gli eretici della carne, Chico, attento! Gli eretici erotici! Sono i clienti di Mr.Vist! Questi, come faccio? Sono potenti! No, questo qua è il falso profeta della carne! Aspetta che... L'ho ammazza! È malpossintissimo! È leppe! Mi avete rottissimo! Ma c'è... È un ucciso! Non arrivo, vogliono aiutarvi! Aiuto! 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 No, non è impossibile! Non arrivo! Cioè, mamma mia, mio Dio! Il mio arco di Ciccia Caccia! Mamma mia, gli eretici della carne! Questi non si fanno sfuggire nulla! No, non voglio! Lion, aiuto! Aiuto! Sono piccolato! No, Gimicco! Ma sono potentissimi! Gli erotici! No! Oddio! Ma come... Ma fa malissimo! No, adesso a questo profeta della carne lo massacro! Glielo date io! No, no, l'hai detto eretico! No, veramente! Però hanno un sacco di tesori lì per terra! Pazzissimo! Me li trafugo io tutti quanti! Ah! Sono finiti! Finalmente! Guarda che ho trovato la spalla di Mr. Meat! Aspetta! Che mi piesta! No, ma tu! Ma sei stupido! Arriviamo in aiuto! Cioè, veramente! Ma adesso mi mangio le polpette di Mr. Meat! Porca miseria! Quella lì chiediamo la potenza di Mr. Meat! Aiuto! Anna! Fai qualcosa! Arriva, arriva, arriva! Non mi fare male! Non vogliono! Non vogliono! Sono possentissimi! Passo io con l'arco di Mr. Meat! Mi è andato dappertutto quello lì! Mi è proprio penetrato! Indecente! Ne basta uno dietro di sopra! No, basta! Non è detto! Uno lì è in grado di carne macinata! Oddio, è indietro! Finito, finito! Oddio! Cosa mi può... Una spada? Una spada di Mr. Meat! Molto bella! Un attimino, vediamo cosa hai preso! Magari è buona! Ah, Mr. Meat, sword, sharpness, Dieci! Ah, anche la spada dell'eretico! Ah, in questa corazza! Io, Baby Meat, ho trovato questo per te! Sì, aspetta! Ah, questa qua è buonissima, dell'eretico erotico! Cos'hai preso, Anna? Cos'hai preso? Oh! Eh, questa! Una pozione di Mr. Meat! E ti dono anche questo cappellino! Uh, questa qui è il succo di carne di Mr. Meat! Anche io ho portato dei doni! Guarda cosa l'ho trovato, infatti, un bellissimo piccone di Mr. Meat! Ma schifo fai! Ma chi ti vuole a te, eh? Ma chi è schifo fai? Però è un dono bello, guarda! Visto che io sono sempre onesto e tu mi sembri bisognoso con quel tuo triste bikini! E c'hai uno scambio per me? Sì, ti do questi Lucky Block di Baldi, che è amico di Mr. Meat! E sono pure fortunati, però te ne do anche due sfortunati, quindi così... Ah, gustateli tutti! Compensiamo, capito? Compensi il dono con un buon carlino! Ok, io nel frattempo do una trivellata con questo piccone supremo che mi ha dato Alex! No! Così tanto do! Sì, bisogna andare pesante! Ah, che schifo! Mr. Meat! Ho trovato la carne di Cico! Ah, sì! Sì, guarda che è buona! La carne è buona perché la possiamo usare per scambiare con un macellaio molto interessato a queste cose! Oh, come con la carne? Non l'ho aperto tutta di brutta! La nostra carne, quello macellaio è un fan! Dobbiamo trovare la carne più rara, secondo me è quella di Lion! Eh, può essere, sicuramente costerà cara! Non strillare, brutta venditrice di cozze e bongole! Ma che fai? Eh, no, cosa è successo, Anna? Cos'è successo? No, mamma mia che cos'è accaduto, oddio! Cosa è successo? Devo venire! Vengo in soccorso, qual è il tuo, Anna? Aiuto, non ti far toccare, non ti far toccare! Eh, Mr. Meat è tutto oscuro! Arriva, arriva nel cielo! Cico, vieni! Madonna mia! Ah, uomo, ti aiuto io, stai tranquillo! È là giù! No, dietro di te, Anna, c'è un altro Mr. Meat! No, è pieno di Mr. Meat! Brutto, magna, purpette a tradimento! Purpuzza a fregola con la carne! Ma quanti sono? A che ti è? Oh, è immortale questo! Cico, dammi un aiuto! Non muore! No, no! Lo tagliamo insieme! No, 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 sta malissimo! Valetetto! Valetetto! Guarda che gli amico, pezzo di valetetto! Oh, è morto! Tiro le pozioni sfortunate, Cico, attento! Ah! Eh, devastanti! Perché fai ste cose? Devastanti! Cattivoni! Devastanti queste pozioni sfortunate! Cosa fai lì sul bordo? Vai giù! Ah, ma cosa fai tu? Devastante! Perché mi butti giù? Non ci posso credere! Allora, io ho preso un totem di Minecraft, versione vecchia, che sono bruttissimi! Non lo voglio, lo butto subito, orribile! Un altro! Non ti mandare via da lì sulla tua, l'ha bloccata! No, eh! Ti aiuto io! Questo è vivo da dieci minuti! No, eh! Che strazio! Spingiamolo! Spingiamolo, spingiamolo, spingiamolo! Spingilo, spingilo! Io vi voglio bene, ma da quando sono entrata nella vostra isola c'è una sfiga che mi si porta via! Allora, ho preso l'armatura di Mr. Meat, più buona di quella dell'erotico, comprendi? Oh, godiamole! Prendi, prendi tutto! Anche tu un pochino! Sì, sì, anche la torta mi prendo, prendo tutto io! Prendi la mia carne pure e mangia, gustatela! Ok, questa è la tua! Che schifo! Che schifo! Sì, sì! Te le do anche altre, le ho trovate altissime! La più disgustosa! La secca nessi in casa, dai! Che schifo! Ecco perché non la trovavo! Perché è quella secca la tua! Sì, è molto buona! Sì, è molto buona! Sì, è molto buona! E poi, altri archi di carne, un altro mister mito scuro che non voglio averci a che fare, pozione misteriosa della carne... Ah, sei morto! No! No, Alex, cosa hai fatto? Ah! Non mi dire, ho perso la carne... No, va bene, lo superremo! No, io ho quello che mi stavo addosso prima! Mi rendo conto della sua potenza, però io ho perso la carne di Cico! Chi mi ha rubato la carne di Cico che ho droppato per sbaglio? Io non c'ho niente, ma non c'è che Cico l'ha rubata! Cico? No, ma non è possibile! No, te l'ho data io! Che sono pazzo! Cioè, qualcuno ha rubato la mia carne di Cico che io avevo droppato per sbaglio! Che è la carne mia! Datemi altra carne di Cico perché io devo avere... Te la do io, te la do io, te la do io, te la do io! Vorrei anche la carne di Anna perché anch'io la colleziono, eh, le varietà! Non l'ho mai trovato, tieni questa carne di Cico! Ok, grazie, Alex, che carne è? Spingilo, spingilo, spingilo! Io non ne ho la carne! Madonna, però anch'io! Ma sei fortissimo! Duramente! No, ma è veramente impossibile! Che sfiga ho! Perché mi hai ucciso? Eh, beh, sto duramente! Mi dispiace, ma devi farci l'abitudine! Oh, oh! L'hai trovato la carne di Alex! Ottimo, però... Che schifo, buono! Vi devo avvertire che il tempo è terminato, quindi adesso è arrivato il momento... No, come? Io non ho mai trovato la mia cicina! È arrivato il momento di scambiare! Allora, prima di tutto andiamo con il nostro amico Giovanni, il fan, che scambia le nostre carni per Smeraldi. Ce le vende subito, direttamente, così. Una, questa, poi questa non ne ho... Me ne manca un po', Cico, me ne dropperesti un pochino della mia? Oh, no! Ho un cassino di quella di tua, proprio, oh, guarda, ho stacche, stacche! No, vabbè! Anche quella di Alex, guarda quanti ne ho prese! Mi serve che me ne dai tantissime, eh, mi basta un paio di stacche così per abbombare... Eh, mi dico questo stacche a me, eh, io non c'ho nient'altro, te l'ho dovuto! Io te lo darò, io te lo darò, ciò che tu desideri! Tu sei un gentile serio! Tu fai schifo! Guarda, io ti giuro, sei un parassita della carne, Alex! Un parassita! Che schifo, quelli che ondeggiano e puzzano pure! Lo sai cosa ti deve venire, Alex? Ti deve venire un prurito che ti viene proprio nelle parti intime e ti dura per tutta la vita! No, fa malissimo quello! Per tutta la tua vita ti deve durare questo prurito! No, ti prego! Cico, io per te ho un sacco, un sacco di cose! Oh, grazie mille, uovo! Io aspetto qui, a placiapete! Oh, ma che è tutta sta comunella? Non mi piace mica! Allora, anche per te, Anna, perché tu sei stata gentile e mi hai regalato anche dei diamanti, io me lo ricordo questo! Oh, veramente! Stai zitto, Alex, guarda, tu devi prendere le botte e basta! Oh! Per te! Brutto imbecilla che non sei altro! Tieni, Cico, questo è per te! Ma be', ma sei ricchissimo! Tieni questi smeraldi, guarda, ti ridò con gli interessi! Oh, mio Dio, ma sei vero! Troppi, troppi, io ne volevo dare a te! No, 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 io ne ho a sufficienza, guarda, butto un po' di roba anche! E per me cosa c'è? Per te, guarda, stai zitto, perché io a te non so neanche cosa ti meriti! Non c'è niente! Perché tu sei parassita della carne! Mi sono rubato la spazzatura che butti via! Ecco, bravo, perché sei un parassita! È proprio quello che fanno i parassiti! Che schifo! Si avvicinano alle cose degli altri, si attaccano e iniziano a ciucciare le cose degli altri! E le succhiano tutte! Che schifo! Schifoso, guarda! È fortissimo quella spada! E poi, finalmente, possiamo comprare quello che ci spetta! Oh, finalmente! Io ho già tutto! Vai, vai, prendi! Io prendo un poco di questo! Compra anche io qualcosa! Mi piace questo! Alex, se non ti sposti dall'avanti col tuo prurito schifoso! Ti sono vicinissimo! Mamma mia, che schifo che fai io! Una persona orribile come te, io non penso di averla mai conosciuta nella mia vita! Ma perché è pur il prurito anche a me! Guarda, se lo guardi troppo, anche a te succede! Sì, lo so, lo so, lo so, lo so! È una persona schifosa! Ma non mi guardare, faccio schifo! Guarda che schifo! C'è un'armatura a vendere qui? Sì, sì, c'è, c'è, ci dovrebbe essere il negoziante! È il maiale il negoziante di armature, guarda! Sì, mi sa che è quello! Stai così! È un'armatura dal maiale! Parassita! No, ma la fassita in giro! C'è, mamma mia, l'armatura di Mr. Meats, tutta con le punte di unghie sono fatte le punte! È fatta... Che schifo! Che schifo! Sempre meglio di essere Alex, però, eh! Cioè, tutto è meglio di essere... Guarda, sicuramente! Di cosa hai fatto, Alex? Ma, peggio che di unghie! Non vogliamo saperlo! Di pruriti, di sporcizia, di infamia, di vergogna, eh! Di imbarazzo, di fallimento! Però parli da adesso! Sembra una cosa piuttosto brutta! Sì, è lui, è così, eh! Questo è il vestito tipico, guarda! Le mutande... Guarda le mutande! Le mutande sono proprio tipiche di Alex! Che schifo! Perché le esci fuori? Ma le cose belle! Mamma mia, è impressionante! Allora, siete pronti per la sfida finale? Al momento? No, no, sono il carico nato pronto di brutto! Cico, io e te siamo a 29 morti! Loro sono a 16 morti, quindi... È solo un numero, i numeri non contano! Però abbiamo succato duro, eh! Mi sa che la prossima volta... Eh, ma di brutto proprio! Ti sei imbarcato la sfortuna a casa! Ma adesso ci faremo valere, uomini! Vediamo, dai, vediamo, 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 vediamo! Allora, vieni con me però, iniziamo a dividerci... Ah, quello là cosa sta facendo? Vabbè, adesso lo è animato! Adesso lo inizio a crepare di mazzate! Lo inizio a crepare... Ma scusa, ma mi sta sabotando? Allora, secondo me conviene puntare su Alex, così che lo facciamo perdere a lui, capito? Abussiamolo, infatti, tanto fa schifo! Tanto fa schifo, è imparsita! Non va, le ho! Aguerriamoci, c'è anche Anna, però, attenzione che... La spingiamo un pochino, ok, fatto! Attento che quello infame... Stava cercando di ribellarsi, eh! Pusillanime, possiedilo, possiedilo! Perfetto, perfetto, perfetto! Nasci qui, dai, o muoviti! Ah, lo sponchiliamo, siamo così... L'idevola super pozione di Mr. Meek! Diana, vieni in team con noi! Elimina Alex dalla vita anche tu! Avrivo! Oh, perfetto! Schieriamoci tutti contro di lui! Allora, ciclo, io lo spingo, tu rimuovi questo pilastro di blocchi, così lo possiamo colpire più duramente! Assolutamente, adesso arrivo subito, uomo spingiamo! Ok, adesso appena respawna, noi lo spingiamo sotto, è così via all'infinito! Mi piace questo alleanza! Ah, è un maledetto, è un maledetto! Cerca di difendersi, mangio delle polpette di Mr. Meek! Mi dispendi da con tutti i denti! Goduriosa le polpette di Mr. Meek! Attento, è ancora lì, è ancora lì! Spingilo! Guarda, sta scappando! Spingilo! Ok, ok, perfetto, perfetto! E' cattivo! Alex, a me pare che qui qualcuno stia perdendo, mi sembra! Oh, cosa? Eh sì, qui stai perdendo! Dai, Alex, che schifo! Alex, ma che schifo! Si reagisce! Si rivella! Si rivella! No, non vale, non vale! Hai superato! Ah, ciclo, sai cosa ti dico? Allora, facciamo morire un'altra volta lui, che così... Ah, basta! Lo eliminiamo! Ok, adesso uccido te una volta! No, perché? Così, ok! Allora, adesso siamo 18 morti, Alex, che è arrivato ultimo! Che vergogna, Alex! Vergogna, ma c'è schifo! Poi, Cico, che schifo, Cico! Sei arrivato pieno ultimo! È ben ultimo qua! È proprio il suo posto, è il podio! Che spuzza che fa! Se non c'era Alex, arrivavi ultimo, Cico, Cico! E non è un vanto! Che piscialetto che sei! Ma vai a bagnare le lenzuola da un'altra parte! Ma che schifo! E ti riesce, no, quello? Poi ci sono io, in un decoroso secondo posto, che certo può amareggiare un pochino il secondo posto, ma è pur sempre dignitoso. E poi c'è la prima, invisibile lì, parassitica, Anna. Oh, sì, sono io! No, perché parassitica! Eh, ora è ancora di più parassitica, ora mister mito scuro. Anna, che ultimamente sta vincendo tutte le competizioni che facciamo. Cosa ti capire? Si è allenato a scuola sicuro! Tu non ti rendi conto della potenza, della benedizione che mi hai rilasciato addosso? Vai via! Basta! Vai via! Vai via! No, vai via! No, vai via! Eh, era vicino, Anna, abbi pazienza, però! E lo stavo con voi! Cioè, stava vicino e a me non è che piace avere vicino Alex. No, no, hai ragione, ecco qua, adesso sono anche visibilissima! Oh, perfetto! Alex, non tornare, eh! No, ehi! No! Mi hai fatto vedere! Con quel bicchini! Vabbè, è qua! Stai, eh, lontano devi stare, 20 blocchi di distanza, orribile! Qua, così, 20 blocchi! Mostrus! Bene, noi ci fermiamo, voi nei commenti dovete suggerire il tema del prossimo sfida di Lucky Block che faremo. Mi raccomando, avete mille possibilità! Sonic, Venom, Baldi, Stambo Guys, la mamma di Cico Spogliatina, quello che vi piace! Cos'è quello? Ciò che uno desidera, scrivete, l'abbraccio accesa e tutto quello che vi pare! Per oggi ci fermiamo e Lion out! Ciao!